Ciao a tutti da Vittorio, il giorno dopo torniamo ad analizzare Lazio-Venezia. Prima giornata di Serie A, primi tre punti per i Bianco Celesti. Torniamo con questo nuovo format, cosa mi è piaciuto, che cosa non mi è piaciuto. Ci sono tante cose da dire, cerchiamo di riassumere. Partiamo da cosa mi è piaciuto. Beh, non possiamo nascondere che Tati Castellanos ha fatto sicuramente un'ottima prova. L'abbiamo detto e ridetto quest'estate. Tati Castellanos sarà fondamentale per la Lazio. I gol di Tati Castellanos saranno fondamentali. Adesso è arrivato Dia e quindi il centravanti argentino si trova un po' sotto pressione. Ieri ha risposto alla grande. Un gol di rapina, rubato bene il pallone al difensore avversario. Un calcio di rigore intelligente. Un palo e una traversa. Castellanos poteva tranquillamente segnare due o tre gol. Poteva battere il rigore lui a posto di Zaccagni. E se che prende la traversa poteva buttarla dentro. Ma Tati Castellanos che è stato eletto giocatore della partita ha sicuramente giocato molto bene. Certo, c'è da chiedersi. È perché contro Di Francesco Tati Castellanos si trasforma? O perché quest'anno vedremo un argentino diverso? Perché bisogna dire che anche lo scorso anno quando vedeva Di Francesco Castellanos segnava sempre. Sempre. Contro il Frosinone ha segnato sia l'andata che il ritorno. Ritorno alla doppietta. Ieri contro Venezia un bel gol e una buona prova. Sicuramente la Lazio serve un Castellanos così. Mi sembra che il giocatore sia in fiducia. Mi sembra che è giocato bene anche per i compiagni. E questo è sicuramente un dato importantissimo per il futuro della Lazio. Se Castellanos è stato sicuramente un lato positivo per la Lazio, la fase difensiva biancoceleste è sicuramente da rivedere. Il gol del Venezia è un regalo dei biancocelesti, ma il Venezia ha avuto altre occasioni per segnare. E non è che si giocava contro il Real Madrid. Il Venezia che viene a Roma e ha due o tre buone occasioni è un segnale d'allarme. Dietro qualcosa ancora non va. Non è qualcosa di incredibile, di scandaloso. Ci sta, inizia il campionato, ci sta che alcuni meccanismi defensivi non sono collaudati. Però bisogna sottolineare come il Venezia, nonostante le tante assenze, sia riuscito a mettere in difficoltà la Lazio. Dietro qualcosa non va. Sicuramente l'assenza di chi la pesa. Sicuramente Casale non è ancora al massimo. Però la Lazio non può permettersi certi errori. Perché con il Venezia riesce a vincere 3-1 contro il Milan, se gli regali due gol, è finita. Ieri Venezia segna sul primo errore, sul secondo Tigrazia. Ecco, fra due settimane c'è il Milan. Se sbagli così contro il Rosso e Neri non ti puoi salvare. Quella partita la perdi. E quindi sicuramente la difesa è un reparto da rivedere. L'altra cosa positiva, abbiamo parlato di Castellanos, dobbiamo anche nominare Dele Basciru. Giocatore che io vi avevo detto, questo può essere veramente un innesto importante per la Lazio. E ieri l'abbiamo visto bene, finalmente, dopo un'estate travagliata per problemi fisici. Contro Venezia, Dele Basciru, è stato secondo me in certi momenti devastante. In fase difensiva ha recuperato non so quanti palloni. E meno male che c'era lui, perché altrimenti la Lazio sarebbe andata in grande affanno. Ma ha dimostrato anche di avere qualità in fase offensiva. Il problema, e ci mancherebbe anche qui niente di allarmante, è che arrivato in zona goal è sembrato un po' spaisato. Non sapeva che cosa fare. Ci sta anche Baroni. Dopo la partita ha detto che Dele Basciru deve crescere ancora tanto, ma il ragazzo ha qualità importanti e si vede. E quindi Baroni ha detto che deve giocare. Sì, deve giocare per crescere e migliorare, però io vi dico, questo è un prospetto interessante. Non sto dicendo che quest'anno Dele Basciru sarà devastante. Preparatevi. Ieri è andato bene, magari la prossima nottrolunese fa un disastro. È giovane, ci sta, che non sia costante. Ma per me l'anno prossimo, fra due anni, questo diventa un giocatore devastante. Speriamo con la maglia della Lazio, ma io vi ripeto, Dele Basciru può diventare veramente un signor giocatore. Deve migliorare alcune cose. Sicuramente i piedi sono buoni, ma si può far meglio, ma questo è un giocatore devastante. L'altra cosa che, secondo me, ieri non è andata bene è Noslin. Noslin, del resto, ha giocato praticamente tutto il precampionato centravanti. Prima di campionato di Serie A viene spostato sulla fascia. Era evidente che gli mancassero i tempi e non fosse rodato per giocare con Lazari dietro. Troppe volte Lazari sale, Noslin fa il movimento e il terstino della Lazio non lo serve. Ecco, bisogna trovare affiatamento, quello che Lazari aveva con Felipe Anderson. Noslin, ieri, primo quarto d'ora, malissimo. Piano piano si è ripreso, ma non abbiamo mai visto il Noslin, che abbiamo visto contro Verona. Questa performance non vale 15 milioni pagati dalla Lazio. Parliamo di un giocatore sicuramente giovane, 24 anni, 25 anzi. Un giocatore che però deve sicuramente giocare meglio, altrimenti Isaksen o Ceauna possono sicuramente giocare il suo posto. Ecco, Noslin, secondo me, è stato non in peggiore in campo, però sicuramente il Laziale che ha brillato di meno ieri contro Venezia. Però si deve adattare al ruolo, deve sicuramente trovare i giusti meccanismi, ma inevitabilmente ieri è stata un po' una delusione. Chiudiamo citando la reazione della Lazio, perché tante volte, in passato abbiamo visto la Lazio andare subito sotto e non rispondere, non riuscire a reagire. Quante volte con Sarri la Lazio è andata sotto e non ha vinto? Tante. Era diventato un incubo, no? La Lazio o andava in vantaggio, oppure se andava sotto era finita, al massimo pareggiato. Bene, ieri la Lazio ha vinto 3-1, nonostante fosse andata sotto dopo appena tre minuti. Questo è un segnale positivo, del resto abbiamo cambiato tutti i leader, praticamente, della squadra. E' arrivata gente fresca, anche mentalmente, che non ha questo tarlo di andare sotto e smettere di giocare. Ieri la Lazio ha giocato, non si è demoralizzata dopo il gol subito e ha portato a casa tre punti pesanti. Però, per chiudere il lato negativo, giocavamo contro il Venezia. Non era sicuramente il Milan, non era un club di alta classifica. Venezia che aveva assenze importanti, quindi questa partita conta, sono tre punti, quelli non ce li possono togliere. Ma non dobbiamo illuderci, non dobbiamo pensare abbiamo battuto il Venezia 3-1 questa squadra della Champions League. No, questa è solo una partita, sicuramente positiva, dal punto di vista offensivo, sicuramente offensiva per i tre punti, ma ha giocato contro il Venezia che ha tante assenze. Questa partita non è indicativa per dirci il valore di questa Lazio, dove può arrivare la Lazio. Per cui, piedi per terra, ben piantati. Settimana prossima c'è l'Udinese, che è un test impegnativo, un po' più impegnativo della Venezia, che ci darà altri indizi, ci fornirà altri suggerimenti per vedere dove può collocarsi la Lazio quest'anno. Però, sicuramente tre punti importanti, ma non ci dobbiamo illudere per la vittoria in casa contro Venezia. Almeno questo è il mio giudizio, qual è il tuo? Scriviti un commento qua sotto e noi ci vediamo dopo con un altro video. Grazie ragazzi. Grazie.